buongiorno amiche e amici ci troviamo qui per il secondo video sulla parola del giorno questa quest'oggi la liturgia ci propone un'altra parabola e questa volta tratta da matteo mentre ieri era una parabola tratta da luca ma vorrei recuperare due cose soltanto sul sul video di ieri ieri ho citato una frase molto bella di un autore di un romanziere che amo molto che si chiama murakami e qualcuno mi ha scritto puoi dirci qualcosa di più su questo murakami e lo faccio volentieri murakami è uno scrittore giapponese nato a tokyo oggi ha circa 80 81 anni ed è un uomo straordinario un uomo straordinario perché uno di grande passione e di grandi passioni la prima grande passione di murakami è sempre stato ed è il cinema è un grande cinefilo e pensate che quando era studente dice di aver visto riusciva a vedere 200 film in un anno anzi più di 200 film in un anno quindi grande passione per il cinema soprattutto americano si è laureato se non sbaglio proprio su una tesi sul tema del viaggio nel cinema americano altra grande passione di murakami la musica soprattutto blues poi vedremo che torna in un suo romanzo e forse lui dice essere la sua più grande passione la musica la letteratura e poi la corsa ecco altra grande passione di murakami la la corsa e ha disputato più di 20 maratone una ultra maratona da 100 chilometri e ancora oggi corre e scrive sulla corsa quindi questo personaggio ecletico un personaggio geniale e non ultimo grande passione per la letteratura ovviamente ha scritto tantissimi romanzi alcuni sono stati tradotti in più di 50 lingue nel mondo quindi è veramente un gigante dal lato letterario io in casa o due suoi romanzi il primo è norvigian norvigian wood nell'ultima edizione dell'inaudi e forse il romanzo più più famoso più letto più più citato ecco di murakami un un libro che che tra l'altro ha un sottotitolo ha un sottotitolo tokyo blues tokyo blues nelle edizioni precedenti anche in italia era proprio il titolo del romanzo è stato conservato come sottotitolo norvigian wood di murakami un libro da leggere magari in questo periodo anche se non potete andare in libreria penso che si possa trovare anche in formato ebook l'altro romanzo che avevo in casa e kafka sulla spiaggia sempre in audi kafka sulla spiaggia lui da grande scrittore ha imparato a salire sulle spalle dei giganti per guardare lontano e lui dice che il suo grande maestro è stato raymond carver ma anche ma anche kafka anche joyce anche dostoevsky e tanti altri ecco a tantissimi maestri in letteratura quindi dedica diciamo un suo il suo amato kafka ecco li dedica anche questo questo libro il vangelo di oggi il vangelo di oggi è tratto da matteo siamo in matteo 21 una parabola molto complessa parabola attenti perché parabola significa testo che vuole comunicare un messaggio vuole comunicare un contenuto e non descrive nulla la parabola non descrive la parabola vuole comunicare un un'idea un concetto teologico spirituale importante gesù dice siamo in matteo 21 33 ascoltato un'altra parabola c'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna la circondò con una siepe vi scavo una buca per il torchio e costruì una torre la diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti mandò i suoi servi dei contadini a ritirare il raccolto ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono un altro lo uccisero un altro lo lapidarono mandò di nuovo altri servi più numerosi dei primi ma li trattarono allo stesso modo da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo avranno rispetto per mio figlio ma i contadini visto il figlio dissero tra loro costui l'erede su uccidiamolo e avremo noi l'eredità lo presero lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero quando verrà dunque il padrone della vigna che cosa farà a quei contadini gli risposero quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che li consegnarono i frutti a suo tempo e gesù disse loro non avete mai letto nelle scritture che la pietra che i costruttori hanno scartato e divenuta la pietra d'angolo questo è stato fatto dal signore ed è una meraviglia e i nostri occhi perciò io vi dico a voi sarà tolto il regno di dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti udite queste parabole i capi di sacerdoti e i farisei capirono che parlava di loro cercavano di catturarlo ma ebbero paura della folla perché lo considerava un profeta una parabola lunga complessa ci sarebbe da da fermarsi sopra molto e faccio notare che io ho letto 33 46 saltando un versetto che viene saltato nella lettura dell'angelo di oggi versetto 44 che dice chi cadrà sopra questa pietra si sfraccellerà e colui sul quale essa cadrà verrà stritolato la liturgia dice togliamola non leggiamola in realtà è un versetto che non compare in alcuni codici e quindi forse non è autentico e comandi sono entrami in questi discorsi allora la cosa ci lascia questa questo testo questa parola attenti parabola e non racconto descrittivo quindi matteo e gesù non vogliono descrivere qualcosa ma vogliono comunicare un messaggio si parla di vigna c'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna la vigna e il termine vigna un termine che troviamo molto nell'antico testamento è il luogo di delizie luogo di bellezza il luogo dove si produce il vino che rallegra il cuore dell'uomo quindi la vigna è un giardino possiamo dire un luogo di bellezza ma la vigna anche questo questo senso di responsabilità perché la vigna si lavora il vignaiolo deve curare molto bene la vigna altrimenti non da frutti altrimenti l'anno rischia di di fallire ecco l'anno del raccolto il raccolto dell'anno ecco meglio può fallire quindi c'è questa vigna in questa vigna ci sono i suoi operai che lavorano cosa c'è dietro che a noi umani è chiesto di gestire questo giardino di prenderci cura di questa vigna che la nostra vita e la nostra vita la diede in affitto a dei contadini dice il testo e se ne andò lontano guardate che questo pezzo importantissimo se ne andò lontano dopo il dono in questo nostro compito di portare la nostra vita a compimento affinché possa portare frutto in tutto questo lui se ne andò lontano come avesse deciso di non entrarci di non interferire di amarci senza intromissioni rendendoci responsabili della nostra compiutezza possiamo dire Dio fa tutto lasciandoci fare tutto Bonhoeffer il grande dittro che Bonhoeffer dice il Dio che è con noi è il Dio che ci abbandona questo è l'amore questo è l'amore questo è l'amore perché l'amore lascia l'amato alla sua responsabilità il messaggio importantissimo Dio non è la stampella delle nostre insufficienze Dio non è l'aiuto quando non ce la facciamo più Dio non si sostituisce all'uomo nel suo compito e responsabilità di portarsi a compimento questa è un'idea che non circola molto è perché soprattutto in questo periodo non adesso non voglio entrare in questo discorso ma si sentono e si vedono delle cose io credo che in questi momenti la religione riesca a dare il peggio di sé comunque Goethe il grande Goethe scrive nel bene e nel male per possedere davvero ciò che abbiamo ereditato dai nostri padri dobbiamo riconquistarlo grandioso ciò che riceviamo in dono va riconquistato sta a noi a portare a compimento ciò che c'è stato donato questo si chiama responsabilità al dono dobbiamo rispondere portando a compimento proviamo a dire un altro modo tutto ciò che abbiamo ricevuto cioè la nostra vita la creazione il mondo va salvato sta a noi salvarlo salvare è un verbo bellissimo nell'antico testamento ma anche nel salvare anche nel nuovo testamento significa dilatare dilatare aprire nuovi orizzonti far sbocciare lui dio l'amore la sua parte l'ha già fatta in principio all'origine tutto ci è stato dato in nuce tutto ci è stato dato come fosse seme aspetta a noi adesso portarlo a compimento con tutto ciò che abbiamo la nostra ricchezza la nostra bellezza le nostre possibilità i nostri doni e i nostri talenti tutto le nostre capacità sta a noi ecco perché la vita è responsabilità la vita è che è responsabilità poi al versetto 34 viene detto quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti lui tornò allora sì i frutti vanno raccolti perché una vita che non porta frutto è una vita insensata è una vita fallita si può vivere senza frutti ma che vita è il primo comandamento dato da dio all'uomo è stato siate fecondi siamo in genesi 1 28 siate fecondi e non vuol dire mettete al mondo figli uno può mettere al mondo 10 12 figli ma non essere uomo fecondo o donna feconda la fecondità esistenziale e portare appunto a compimento la propria storia essere fecondi portare frutto e guardate che la l'opera di gesù raccontata ci dal vangelo mira proprio a questo fare in modo che i figli del padre diano frutto non voi avete scelto me ma io ho scelto a voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto la vita è fecondità e gesù di nazareth ci ha dato la possibilità di portarci a compimento lo ripeterà poi giovanni 10 giovanni 10 10 sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in sovrabbondanza poi continua il testo la parabola dice che questi contadini prendono il figlio di questo uomo e lo prendono lo uccidono dicendo su prendiamolo uccidiamolo costruire l'erede e avremo noi la sua eredità guardate che è bellissimo forte drammatico ma questo passo della parabola è grandioso parabola non descrizione ma trasmissioni di un messaggio che messaggio c'è sotto dall'avere messo a morte dio gli assassini ebbero in cambio dio stesso uccidiamolo e avremo l'eredità è andata così ma non è assurdo questo se è assurdo o meglio è paradossale ma se ci fate caso l'amore è paradossale questo vuole comunicarci la parola l'amore fu l'amore funziona solo così da vita a chi gliela toglie perdona chi lo ferisce accoglie chi lo rifiuta se non agisse così sarebbe uomo uccidiamolo e avremmo noi l'eredità questo è Dio che dà la vita a chi gliela toglie perdona chi lo ferisce accoglie chi lo rifiuta se non agisse così sarebbe uomo perché un uomo toglie la vita a chi gliela toglie ferisce chi lo ferisce rifiuta chi lo rifiuta allora chiudo l'amore diventa fecondo solo quando verrà ferito l'amore dà il meglio di sé dà il tutto di sé possiamo dire funziona nella misura in cui viene ferito detto in altro modo portando le conseguenze dell'amore per noi cristiani si chiama croce la conseguenza dell'amore lì sboccia la vita allora cosa ci lascia l'Evangelio di oggi? che Dio, l'amore, la vita non si lascia sorprendere dall'esterno e il male non potrà avere più non potrà avere la meglio su di lui guardate la parabola di oggi ci sta dicendo che tutto il male che viene gettato sull'amore serve all'amore come combustibile tutto il male che viene gettato sull'amore serve all'amore per dare il meglio di sé è un paradosso ma è questo il paradosso dell'amore questo dirà Paolo in Romani 12 è la logica in cui dovrebbe entrare il cristiano vincere il male con il bene se tutto il male che ci viene gettato addosso cominciassimo a vincerlo con il bene allora cominceremo a agire da Dio cioè con la stessa stoffa di Dio dell'amore cominceremo a godere della vigna del giardino di una bellezza di un paradiso già qui su questa terra ci trasformeremo in uomini e donne amanti e quindi in ultima analisi capace di scavalcare anche la morte buona giornata